Buonasera a tutti e benvenuti ad Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 8.20 nella rotatoria tra via Trave, via Aldomoro e via Frusaglia a Fano. A scontrarsi una Ford Fiesta guidata da una 36enne di Fano, sola a bordo, e uno scooter 150 condotto da una 66enne fanese. Secondo una prima ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia locale, l'auto, giunta alla rotatoria con l'intenzione di proseguire verso via della Trave, ha urtato il motociclo che era già in rotatoria. Sul posto i sanitari del 118, che viste le condizioni della scooterista, hanno allertato l'eliambulanza. La donna è stata trasportata al torrette di Ancona, illesa invece la conducente della Ford risultata negativa ai test alcolemici.